salve a tutti in questo video vi spiegherò come ascoltare in diretta la vostra musica appena mixata direttamente su il vostro cellulare allora tutti mi diranno eh ma fai un export in formato mp3 o flac in alta qualità e lo mandi a telegram e poi te lo ascolti ok però se hai da fare una piccola modifica devi riaprire il tuo programma musicale rimettere, rifare la modifica, salvare di nuovo e rimandare su telegram e poi ascoltare magari a cacchio ho sbagliato perché ho fatto la modifica esattamente l'opposto a quello che mi serviva il mio ragionamento vuole essere con linux poter ascoltare la modifica musica in tempo reale direttamente sul cellulare allora adesso vediamo una cosa abbastanza interessante ho aperto un programma lettore audio strawberry è un brano che adesso ascolteremo questo è l'audio che esattamente si sente dal pc quindi una qualità tutto sommato buona quello che voglio fare adesso è semplicemente per noi che usiamo linux e il comparto pur audio abbiamo già q jack ctl installato ce lo teniamo da parte e useremo un semplicissimo link di obs ninja allora il link di obs ninja è molto semplice perché il link che vi metterò in descrizione ve ne metterò due e si usa un primo link che al posto del view va messo push io vi darò il link già pre compilato col push il push è condividi il video o l'audio in questo caso l'audio quindi si fa share your camera ma come certo e gli si dice gentilmente no video audio no predefinito neanche no audio altrimenti non condividiamo nulla dovremmo vedere la nostra scheda audio il pallino su scheda audio test per sentire se sento gling 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 vuol dire che sto condividendo allora adesso sto condividendo quindi da qualche parte qualcuno si ha un link view può provare a sentire qualcosa si no bo non è detto allora cosa da fare è sul cellulare cliccare sul link view e mandare tutto in play quindi adesso non lo vedete ma lo sto facendo sul cellulare view e poi dopo appare un tondo nero con il play e si va in play sentite praticamente il riverbero perché adesso sta passando questo il giochetto da fare è Google Chrome input a strawberry sul cellulare sul pc diciamo o almeno io ho usato Google Chrome però voi avrete il vostro browser con l'input allora adesso io ho anche elevato l'audio del desktop quindi dovreste sentire solo quello che passa dal cellulare verso il microfono voi non avrete tutte queste dissonanze perché sono io che sto cercando di fare il video e ho tutti questi problemi però ho detto questo in maniera molto molto veloce è proprio questo il modo che vi fa sentire direttamente il brano sul cellulare e quindi potete equalizzare sul pc e ascoltare subito il tempo reale ok c'è un po' di latenza ma pochissima rispetto a qualunque altro sistema sentite già la modifica fatta quindi se non riesco a fare in modo che quel suono netto di pianoforte si senta bene spostate le frequenze e lo capite subito dal cellulare dove sono le frequenze giuste per enfatizzare quel suono per questo video tutorial è tutto